Grazie Presidente, oltre a tutti, io oggi avete venito a intervenire, ma dopo l'intervento del progetto falso c'è necessità di fare qualche riflessione incoluzione. Sindaco, noi cattiamo il giustificato dell'impatto che dopo mesi tu hai iniziato in uno con il Presidente di Consiglio, questa seduta di Consiglio per illustrarci le linee programmatiche che dover interessare principalmente la città, i nostri cittadini e che dovevano dare il suo conflitto per migliorare il vostro credore. E io mi aspettavo stamattina che tu mi presentassi insieme con tutti i tuoi dirigenti e con tutti i tuoi assessori perché sono certo che questo paio l'aperto che tu hai rimanicato stamattina e ti hai inviato sicuramente, perché io so ti dover accusare di essere come sono stato stato un tempo, commissario dell'esercizio e tu sicuramente questo paio l'aperto l'hai inviato a tutti i tuoi rispondenti della maggioranza, il quale avevano esercizio e dovere di presentare il loro posto, avevano esercizio e dovere di migliorare questa patina programmatica, avevano esercizio e dovere di portare alla città delle soluzioni. Se te luce in Santina ci vediamo in Chile diciamo, perché non affichiamo in piano casa, in piano casa lo possiamo affichare perché un certo decreto che risponde al nome di Leonardo che in pochi mesi ha prodotto danni per la nostra città ha deliberato con un atto che in piano casa non ci deve essere nessun iniziale. Allora questo Consiglio notare per dare risposta ai cittadini indipendentemente a prescindere da quello che sta succedendo a livello nazionale europeo e a livello nazionale ha la necessità di assopare il piano casa, ha la necessità di portare i punti in consiglio romale per approfarlo, ha la necessità di mettere in mano al più e l'altro. Ma se noi ancora sono d'accordo con il collega Dalluccio e si è cercato di miscolare questi dolcienti del più e l'altro, ma se noi non li mettiamo in campo sicuramente non possiamo dare risposta ai nostri numerosi, 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 disoccupati che sono nel nostro territorio. E allora a noi non facciamo cattrino il collega Dalluccio, il cattrino lo stiamo facendo, qualcuno lo stanno facendo qualcuno di noi. Noi stiamo in opposizione e come vogliamo confrontare con la maggioranza che deve gestire il territorio di cattolta, noi ci vogliamo confrontare con proposte propositive e costruttive e vogliamo essere anche i controllori di tutti gli atti che poi mettete in campo, ma sicuramente non possiamo perdere il nostro tempo in tante sedute di Consiglio Comunale per assistere a una diattiva che viene all'interno della maggioranza. Io penso che tu, da persona intelligente, debba riunire tutti i partiti che si sostenono in modo da trovare la mancata, un'unione e venire in Consiglio Comunale per fare le sovorte. E noi sicuramente ci accetteremo le volte in avanti tutti quanti insieme quando vanno nel miglioramento degli obiettivi per l'intera loro espiritale. E allora questo è sicuramente un invito e una preghiera da parte nostra. E quella anche di costituire, se l'ho detto già un'altra volta, meno male che sono venute le commissioni consigliari, perché non dobbiamo decidere da subito un tavolo permanente che deve attuare in manaccia per se la disoccupazione del lavoro e se deve preoccuparsi di mettere in campo anche per venire e iniziare e dare le prime risposte alla città che aspetta questa risposta. Allora questo è un invito a tutta la maggioranza. E lo faccio davvero col cuore amato, perché non vorrei che tutto voglio che tu fossi rigiorire in una cosa parte o una parte della tua maggioranza e allora non si possono attuare e definire tutte queste iniziative e questi oggetti che noi abbiamo adesso in campo e che vogliamo dello tenente, da la capente, ti vogliamo portare avanti e ti vogliamo definire tanto il nostro apporto e il nostro contenuto. Quindi sindaco, ti invito la prossima volta io non potrei assistere e ci alzi il fumo della tua maggioranza per fare qualche distinto. Io voglio dire che tu consigli di soffermarsi su quei soggetti, su quei soggetti che devono davvero dare delle risposte ai nostri cittadini che lo aspetto. Grazie. Stai bene, va bene qua!